Vi voglio parlare delle news di oggi che riguardano per lo più Red Dead Redemption Oltre a questo parleremo anche di Metal Gear Solid Lambda Nome anche questo, vabbè E l'ultimo parleremo anche di Call of Duty Modern Warfare 3 Che è stato annunciato giusto qualche oretta fa Però direi di cominciare appunto da Red Dead Redemption Insomma il porting, non è un remake, non è una remastered Quindi mamma mia Rockstar cosa riesce a tirare fuori Però vi faccio vedere questo mini trailer mentre ne parliamo Perché appunto era stato liccato nelle scorse settimane Che doveva arrivare questa nuova versione di Red Dead Redemption Il primo capitolo del franchise E alla fine insomma l'hanno annunciato Ma lo hanno annunciato per Nintendo Switch E io sinceramente non ho capito perché mettere nell'annuncio La proprio a specificarlo per Nintendo Switch E poi hanno scritto per le console moderne Playstation Ma che mica significa le console moderne Playstation Se poi il gioco è disponibile per PS4 E tu ci puoi giocare su PS5 in versione retrocompatibile Quindi c'è moderna che cosa? Cioè moderna per te è una console che è uscita nel 2013 Dieci anni fa è una cosa moderna Cioè guarda che Rockstar veramente siete proprio fottuti nel cervello Oltre al fatto che questo arriva ovviamente il 17 di agosto come si vedeva prima E oltre a questo hanno anche incluso il DLC Undead Nightmare Che ti devo dire di questo sono contento Perché questo DLC era Mamma mia fantastico Da qualsiasi punto lo vuoi vedere Questo DLC era veramente fantastico Però appunto Qual è il senso di fare questa versione Per Nintendo Switch e PS4 Cioè posso anche capire che la vuoi far uscire lì Ok ci può pure stare Ma allora a questo punto Fai una versione nativa Nativa Per quanto riguarda la PS5 Anche Xbox Serie X Ed S E magari anche PC Magari anche PC Invece no Semplicemente vai a rilasciare Questo gioco sulle console moderne Senza cambiare nulla Cioè il gioco rispetto al 2010 Quando è uscito il 2008-2010 È identico Non cambia nulla Cioè non hanno fatto il remaster Non hanno aumentato la risoluzione O meglio La risoluzione è leggermente aumentata Questo sì Perché su PS4 il gioco dovrebbe girare a 1080p 30 frame Neanche 60 Fantastico Mentre invece sulla PS5 il retrocompatibile Insomma in modalità retrocompatibile Dovrebbe girare a 4K Ma sempre a 30fps Che praticamente Giusto per darvi un'idea Questo è la stessa versione essenzialmente Che tu puoi giocare su Xbox Serie X e Serie S Ovvero Che se tu hai il gioco per Xbox 360 Ci puoi giocare in modalità retrocompatibile Con queste nuove console Però dato che appunto la retrocompatibilità Per la PS3 non è disponibile su PS4 E anche su PS5 L'unico modo per portarlo su queste nuove console Era rifarlo Tra tante virgolette Per appunto farlo arrivare qui E te lo devono vendere Così trovi a comprare Che ok Sotto questo punto di vista Sicuramente è meglio possedere un Xbox Per giocare a questi giochi datati Ma ti ripeto A nessuno interessa giocare un gioco Come lo giocavi nel 2010 A nessuno Cioè se non vai a mettere nessun tipo di miglioria A che provarlo Che poi ok Magari ho visto in rete Alcune persone che dicevano Ok ma questo lo fanno Perché magari lo vogliono far uscire su PC Non esce su PC E allora perché questa cosa Vuoi fregare 50 dollari euro Alla tua community Cioè Dio mio Rockstar Ma perché fare queste cose Veramente non le capisco Oltre al fatto che Ovviamente la gente si va ad informare Di tutte queste cose E qua vi segnalo anche Che la versione fisica Di questo Non so neanche come ridepinire Insomma questa riedizione del gioco Esce il 13 di ottobre Appunto Le persone si sono informate E hanno Praticamente visto che Questo Questa nuova versione del gioco È stata sviluppata Da Double Eleven Studios Che io non conosco È un'azienda che non l'avevo mai sentito prima Però Però come si può leggere In questo tweet di Ben Praticamente questa è l'azienda Insomma la Software House Che aveva lavorato A Fallout 76 Cioè Ma ci rendiamo conto A chi cavolo stiamo dando L'opportunità di lavorare A questo franchise A gente che ha lavorato A Fallout 76 Andatevi a vedere qualche video Di qualche anno fa Di come è uscita la versione 1.0 Insomma la versione di TV Di quel gioco Che faceva schifo Faceva schifo Faceva Quindi io non lo so Ce ne veniamo Già da un paio Di mesi Ormai Un annetto più Che è uscita La Insomma la trilogia Delle versioni Per PS2 Dei giochi di GTA Che quella Faceva altamente cagare E ancora una volta Mi viene a scegliere Una Software House Che insomma Tra i suoi R Insomma Nella sua cronologia Di giochi che ha fatto Ha lavorato A un prodotto Come Fallout 76 Che io Boh Io non ho parole Rockstar Veramente Riuscito a fare cose Indescrivibili Oltre al fatto che Vi voglio far notare Anche questo Commento di John Linman Che è praticamente Una delle persone Che si occupano Di Digital Foundry Un canale YouTube Che segue per lo più Appunto Il lato tecnico Del mondo videoludico Che appunto Ci fa notare In questo tweet Che Praticamente appunto Questa versione È stata fatta Solamente Per portare Il gioco Sono nuove console Non andranno A cambiare Il codice Non andranno Ad aumentare La risoluzione Delle texture Non modificheranno Il gameplay Niente Di niente Di niente È perché Si stava chiedendo Eh ma Ti ripeto Magari su Xbox Ci puoi giocare A 60 fps Non è così Pure su Xbox È a 30 frame Quindi Boh Veramente Le cose più strane Però andando avanti Parlando di altri Giochi Vi faccio vedere Questo tweet Di MGS Mgn Che praticamente È una community Insomma Una persona Che segue Tanto Il franchise Di Metal Gear Perché appunto Ci passiamo Essenzialmente Da un gioco Che non viene Né rimasterizzato Né fatto Sotto forma Di remake Rinominata Metal Gear Solid Lambda Dove ci fanno Vedere anche qua Che hanno modificato Di gran lunga La parte grafica Ecco Questa secondo me È una cosa positiva No Prendi un gioco Che era su PS2 Dove è a modificare Lo rendi sicuramente Più bello Da vedere E siamo un pochino Tutti contenti No Perché no Il problema Però di tutto ciò È che Nell'annuncio Quando Se vi ricordate Abbiamo anche parlato Nell'annuncio Di questo gioco Non avevano detto nulla Per quanto riguarda Il gameplay Ergo Che cosa succede Succede che magari Arriva questo gioco Che è bello Da vedere Insomma Tutta la parte grafica Fatta da zero Insomma Tutto questo nuovo Engine E tutto il resto Però Alla fine Che cosa ti ritrovi Tra le mani Ti ritrovi Tra le mani Un gioco Uscito nel 2003 Barra 2004 Con le stesse Identiche meccaniche Di gioco E che appunto L'unica cosa che cambia È la parte grafica E io ti dico Sti cazzi Cosa me ne frega Di giocare Lo stesso Identico gioco Solamente con una grafica Migliorata Anche perché Se vi interessa Giocare Metal Gear Solid Cioè Prendetevi L'HD Collection Insomma La versione rimasterizzata Che quella È un bel vedere Ancora oggi Magari non sarà 4k 60 frame Tutte queste cose qui Ma ti ripeto Piuttosto che vedere Un miglioramento Che non è un miglioramento Perché solamente Prendere la parte grafica Almeno a me Non interessa Però su questo Su questo ancora Non abbiamo annuncio Ufficiale Da parte di Konami Quindi Quindi aspettiamo Aspettiamo qualche news Però nel frattempo Io un pochino preoccupato Lo sono Perché Cioè vedendo quello Che fa Rockstar Cioè non è che Konami Sia tutta questa azienda Che fa Sempre cose positive Per il mercato È assolutamente No E ultima cosa Chiudiamo con Call of Duty Modern Warfare 3 Che ti devo dire Non capisco L'annuncio Di questo gioco Cioè te ne vieni Già dal fatto Che era appena uscito Call of Duty Modern Warfare 2 E già fai uscire Il 3 Di solito Fanno uscire Tra appunto Un capitolo Del franchise E l'altro Qualcosa di diverso Quindi non lo so Evidentemente Vogliono far finire Questa trilogia Di Modern Warfare Il più presto possibile Non lo so Oltre al fatto Che avrei voluto Tanto giocare Modern Warfare 2 Ma è introvabile A un prezzo Bene o male Decente E oltre al fatto Che a me Questi giochi Non interessano Minimamente Per quanto riguarda Il multiplayer E quant'altro Cioè a me interessa Sempre la storia Di questi giochi So che faccio parte Della minoranza Ma io Sempre ho giocato A COD Per la storia Mi piace Insomma mi piace Vedere quelle storie Di azione Qualche personaggio Abbastanza Over the top Però insomma L'hanno annunciato Questo dovrebbe arrivare Il 10 di novembre Ovviamente Su tutte le nuove console E quant'altro Detto questo Gente Queste erano Le news Di oggi Di oggi Grazie a tutti.